Ciao a tutti, sono Francesco Yoshi e questo è un videotag. Mi hanno taggato e si chiama essere allunno, un po' sul mio passato. Qual è la materia in cui andavi meglio? Era educazione fisica, già. E però se volete sapere quella un po' più difficile, un po' di studio, beh, era inglese, già. Un po' come tutti i video che faccio adesso, perché in seconda mi ero preso un rimando e da lì ho studiato un botto. Poi l'ho capito un poco e ho smesso un po' di studiare, ma sempre è andata bene perché bastava parlare. Qual è la materia in cui andavi male? Era storia, sì, perché non mi piaceva il passato, non mi piacevano le guerre, tutto ciò che di brutto c'è stato. E quindi non studiavo, ma poi mi son trovato male ed ho dovuto e quindi, storia, ti faccio un saluto. Hai mai preso una cotta per un insegnante? No, 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 insegnanti, no. Perché non mi piacevano? Erano noiosi. Qualcuno era mio amico, ma non era una cotta perché... Ah, li lascio agli altri. Al posto entrare... No, al posto andare in bagno. Quanto tempo passava da quando uscivi dalla classe a... Quando rientravi? Beh, io ero un po' secchione, ma non per i voti a scuola, un po' per il comportamento. Beh, non andavo tanto in bagno. A parte quando proprio scappavo, allora... Già andavo. Ti è mai capitato di incontrare un bullo? Eh, già, io li conoscevo bene. Ero bullizzatissimo, specialmente ai primi anni delle superiori. Ero quello su cui si accannivano. E la cos'è? La cosa più bella, più assurda che hai fatto a scuola? Beh, bella è un po' poco, ma di assurda un botto. Se vogliamo considerare quello che i bulli mi facevano... Beh, c'è stato un anno, non ricordo se è il primo o il secondo, in cui i bulli hanno fatto un'incursione in classe. E se non ho dovuto scappare, è stato il giorno di San Valentino. Qui lo chiamiamo il giorno del primino. E da lì ho corso per tutta la scuola, con gente che mi correva dietro per farmi una grossa P, ma non mi hanno preso. Sono passato per il cortile. E da lì cosa è successo? Che tutti quanti mi hanno visto. E hanno iniziato a corrermi dietro. E sono arrivato nel centro della scuola, nell'ingresso, dove ci sono tutti. Dove ci sono le scale. In alto e in alto ancora. Tutti attorno. Io sono nel centro. E di lì che succede? Beh, arriva un grosso bullo, molto grosso e alto, non come me che ero piccolino al confronto. E così mi ha attaccato, mi ha fatto tipo da bestia. Allora ho caricato un colpo e gli ho dato una sballata. L'ho buttato per terra perché non so come abbia fatto, ma c'è stato un momento in cui ero molto potente. E poi sono corso via con tutti intorno che mi guardavano, ma non mi hanno mai preso già. E la prossima domanda è... Hai mai stroccato, oppure tagliato, fatto filone o bruciato? Beh, no, non l'ho mai fatto, ma una volta sono andato ad uno show. Però controlla gelmini perché non mi piaceva quel che stava facendo a noi poveri allunni. Hai mai usato il diario per i suoi reali scopi? Già l'ho usato, ma io preferivo usare lo smartphone perché tutto era sincronizzato. Se me lo fregavano ero in grado di ricordare tutto quello che dovevo fare, anche se poi non sempre lo facevo. Siamo giunti alla conclusione, tagga 5 amici e saluta i WAF che hanno creato il tag. E chi ti ha taggato sono stati gli RMG Radio Music Games. E quindi dategli uno sguardo e io tanto li saluto. Oh no, mi sono dimenticato, la gita più bella che hai fatto con la scuola è stata In seconda, no, in prima media che sono andato Non ricordo dove perché ero piccolino Però ricordo l'emozione di quando il mio miglior amico Amerigo mi ha detto Dai, c'è quella ragazza che lo so che ti piace E quindi provaci, ma io non l'ho mai fatto E mi dispiace, ma resta comunque la migliore gita Ho portato una macchinetta fotografica La mia prima in giro con il rullino ancora e già E abbiamo scalato, abbiamo fatto un sacco di cose in una casetta Abbiamo mangiato il pane con la Nutella Abbiamo fatto il gioco della bottiglia a cui non ho partecipato Perché alla ragazza che mi piaceva non piaceva il gioco della bottiglia E quindi non ho voluto E sono stato con lei a parlare Anche se poi ne ho fatto Siamo giunti alla conclusione E qui voglio taggare tutti voi Voglio taggare tu che hai visto questo video Voglio taggare te che mi hai ascoltato E voglio taggare te che sicuramente stai mettendo un mi piace e ti stai scrivendo Un saluto da Francesco Yoshi, ciao Ciao a tutti Siamo fra Yoshi E David Pejeci From Italy I pesci non parlano I pesci non volano Quando piangi puoi essere sia triste che felice Il telefono è una cosa elettronica Questo è un cappello E questo è acqua Oh 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 Grazie a tutti.